Luca, a un certo punto sembrava la partita fosse finita sul 4-2, siete riusciti a recuperarla in poco tempo, secondo te cosa può lasciare un pareggio arrivato in questo modo? sicuramente positivo come abbiamo reagito questi ultimi minuti, ma tanto negativo, abbiamo preso 4 gol di fila sul 2-0 per noi sicuramente sono punti buttati, soprattutto per lo stato in classifica e anche per come si era messa la partita nonostante loro tanta qualità, bella squadra, ma 2-0 per noi, 4 gol, noi possiamo subire poi 4-2 grazie a Dio abbiamo ripresa, con un po' di grinta, un po' di cattività in più e alla fine il risultato è anche giusto da cosa si può ripartire dopo questo risultato? sicuramente si può ripartire da questa reazione della squadra, più consapevolezza sappiamo che la nostra squadra è forte, nonostante oggi eravamo contati, tante tante essenze ma ce la siamo giocata e loro, sicuramente la squadra che era in campo non rispecchiava il loro stato in classifica grazie mille